Buongiorno a Silvia Rapizza del CSV di Milano, Centro Servizi per il Volontariato. Buongiorno Silvia. Buongiorno, buongiorno Fabio e a tutti gli ascoltatori. Allora, perché parliamo di Civil Week oggi? Siamo lì che sarà, ricordiamo le date, 8.11, giusto? Maggio? Esatto, esatto. 8.11 maggio 2025, ma perché ne parliamo oggi? Ne parliamo oggi perché questo tardo pomeriggio alle ore 18 online lanceremo ufficialmente e presenteremo ufficialmente l'edizione 2025 della Civil Week che come giustamente ricordavi si svolgerà dall'8 all'11 maggio. Questa è la settimana dedicata al mondo del volontariato, dell'associazionismo, della cittadinanza attiva insomma al variegato mondo del terzo settore che si dedica alla costruzione quotidiana del beni comune attraverso una molteplicità di attività e di progetti. La presentazione non è solo una presentazione ma anche una chiamata, giusto? Bravissimo, questa sera noi, questo tardo pomeriggio, lanciamo ufficialmente Civil Week quindi da domani sarà possibile candidare dei propri eventi e candidare i propri eventi alle tre call che lanciamo questa è una importante novità di quest'anno accanto alla call for events avremo la call per le scuole che torna quest'anno, l'anno scorso non era presente e la call bc civica. Poi se abbiamo tempo vorrei entrare un pochino più nel dettaglio di questi eventi. Ma certamente anzi perché allora call for events spiega un po' chi si può candidare o meglio chi può proporre la propria idea e poi lavorarla e poi portarla a terra come si dice in questi casi chi può farlo e quali eventi possiamo ricordare magari gli anni passati per dare anche un po' di spunto. Certo, allora la call for events è aperta a tutti, è quella diciamo super inclusiva possiamo dire così perché vi possono partecipare associazioni, enti locali, gruppi informali, scuole, fondazioni promuovendo propri eventi che devono essere in qualche maniera connessi al tema non abbiamo parlato ancora del tema di quest'anno, quest'anno il tema della Civil Week sarà l'Europa siamo noi, quindi l'anno scorso avevamo parlato di costituzione, di sussiderietà quest'anno andiamo ad allargare lo sguardo, guardiamo a quelli che sono i valori fondanti dell'Unione Europea di cui anche noi siamo portatori in quanto cittadini europei e cercheremo di mettere in luce come anche il mondo dell'attivismo, del volontariato del terzo settore contribuiscano concretamente giorno dopo giorno attraverso le loro azioni a mettere a terra questi valori di solidarietà, di democrazia, di inclusione. Quindi torno alla call for events, tutti possono partecipare, quindi enti locali, gruppi informali promuovendo un proprio evento che può essere un laboratorio, un convegno, una performance artistica, un workshop, ma anche passeggiate per la città, eventi aggregativi sportivi che chiaramente noi inviteremo a organizzare in maniera collaborativa cercando di coinvolgere anche più enti locali, più enti sui propri territori e a guardare chiaramente a quello che è il tema di quest'anno. Poi dicevi che c'è una call per le scuole, giusto? È abbastanza semplice questa, no? Esatto, siamo molto contenti di tornare quest'anno con la call per le scuole che permetterà alle scuole di proporre progetti che vadano a stimolare la creatività e la collaborazione dei gruppi classe per presentare un evento che potrà essere collegato anche alla call for events oppure per partecipare a un concorso artistico che quest'anno è una nuova, diciamo una new entry della Civil Week, un concorso artistico che inviterà le scuole e i gruppi classe a, diciamo, tradurre in forma artistica il tema della Civil Week costruendo delle targhe che saranno utilizzate poi per la bici civica, targhe per le biciclette che saranno utilizzate in occasione della bici civica. Terza chiamata appunto, bici civica. Esatto, la terza call bici civica. Noi sappiamo che, sappiamo insomma, chi ha già partecipato sa che la Civil Week si chiude con la bici civica che fino ad oggi è stata prevalentemente solo milanese, quindi questa manifestazione in bicicletta l'11 maggio sarà, ma quest'anno noi vogliamo, diciamo, vogliamo promuovere un allargamento anche di questo evento, quindi vogliamo che la bici civica diventi un'esperienza diffusa e vada a coinvolgere l'intera città metropolitana, quindi invitiamo associazioni, enti locali, gruppi di cittadini a organizzare sui propri territori delle bici civiche diffuse, quindi che potrebbero svolgersi nello stesso momento, quindi nella mattinata dell'11 di maggio, anche in altri territori e in quel caso, diciamo, costruendo degli itinerari che vadano a valorizzare i territori su cui queste organizzazioni operano e vivono, quindi per creare anche in questo caso un evento diffuso a cui tutti possano partecipare e simbolicamente siano uniti anche in questo momento di chiusura della Civil Week. E allora Silvia, dici bene, dove possiamo seguire la presentazione e dove possiamo poi proporre e rispondere appunto a queste chiamate? Allora, la presentazione sarà online, è possibile iscriversi alla presentazione online attraverso il sito della Civil Week, quindi andando sul sito, posso dire adesso il link, allora Civil Week che si scrive Civil Week con due e la k, quindi Civil Week trattino meno vivere.it e attraverso veramente un'operazione molto semplice ci si potrà iscrivere e si riceverà quindi il link per poter seguire poi la diretta di stasera alle 18. Invece da domani sarà aperto anche questo sito, saranno aperte tutte le call, quindi si troveranno sul sito Civil Week tutte le informazioni per candidarsi alle tre call, in un primo momento sarà necessario solamente presentare una manifestazione di interesse, quindi attraverso un form online in maniera molto semplice lasciare i propri dati e l'idea che si ha di costruire un evento, di partecipare alla bici civica o altro e poi successivamente coloro che avranno inserito o inviato una manifestazione di interesse riceveranno un link per completare con tutti i dettagli del caso che andranno a raccontare un po' più nel dettaglio l'evento che si andrà organizzando, quindi comunque è molto semplice e soprattutto la segreteria organizzativa di Civil Week presso il CSV di Milano sarà assolutamente disponibile a dare informazioni con ulteriori momenti online aperti a tutti, ma anche a rispondere a telefonate, mail, insomma daremo tutto il supporto necessario a chi vorrà partecipare a questo evento diffuso in tutta la città metropolitana che cerca davvero ogni anno di mettere in luce il valore della solidarietà, della partecipazione e dell'impegno civico a cui partecipano tanti cittadini e enti della città metropolitana. E infatti hai detto la cosa giusta ogni anno perché ormai siamo arrivati all'edizione numero, ricordiamolo? Allora, diciamo che live è la quarta edizione live, ci sono state alcune edizioni online perché diciamo c'era stato il Covid, avevamo avuto qualche sicoltà inizio. Tutto nasce proprio appena prima del Covid, quindi insomma poi dopo si ritrova le prime edizioni infatti sono state più online, ma adesso è quarto anno dal vivo, quattro anni in presenza, quarto anno in cui la città appunto darà il meglio della sua civicità. Quindi davvero, grazie mille a Silvia Rapizza del Centro Servizio Volontariato, ricordiamo il sito civilweek-vivere.it, questa sera la presentazione e poi da domani tutto quello che è per rispondere alle chiamate. Corretto Silvia? Sì, perfetto, noi aspettiamo le manifestazioni di interesse, vi aspettiamo ovviamente anche questo tardo pomeriggio e poi siamo disponibili a dare tutte le ulteriori informazioni di cui ci sarà bisogno. Grazie mille allora e buon lavoro, capisco che la strada sarà anche bella lunga da qua a maggio, quindi buon lavoro a tutta la vostra squadra, va bene? Grazie, grazie Fabio e a presto. Grazie mille e buona Civil Week allora, andiamo con la musica adesso e poi torniamo qui in diretta sempre su Good Morning Milano, Crystal Radio in diretta. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie mille e buon lavoro a tutti.